Quello che vuoi è spettacolo Brava! 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 Buonissimo! Dov'è salto per la pagina! Bravo! Un applauso al nostro piccolo! E ora, nei secondi, seguiamo un salto mortale in doppio Firoletto. Perfetto! E applauso! Questo ed altro si trova nel canale, un grande archivio audiovisivo sempre aggiornato e di facile consultazione. È importante iscriversi e invitare i propri amici a fare altrettanto, in modo da divulgare il progetto e poter rivivere insieme emozioni altrimenti perdute. Perfetto! 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 Perfetto!